Bella ragazze ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, Supporto un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione. Dai! Ha un HP! Porco! Ha un fucking HP! Ma dove? Lì dentro. Ah, la? La sotto. Sì. Porco! Ovviamente piava lo scildone e trova i cildini. Vabbè adesso, un p***o favore. Che devo fa? Andare a uccidere quel tizio. E niente. Ma... Oh... Ah, ah Ma che cosa cazzo è successo Porca Questa cosa non ha molto senso Se con l'euro passi in mezzo e fai quel cazzo che vuoi Decisamente Ah Che cazzo sto tirando Sto cagando sotto cazzo È andato troppo un bordello C'ho paura Ari Aerei Ma che cos'è Ma che cosa è Quello non è normale Che fa quello che vuole Comunque in questo modo C'è che passi in mezzo le strutture E comunque non ti danni più la struttura E non ti fai male Cioè non ha senso questa cosa Ma soprattutto l'aereo C'è pochissimo a capire Perché non si è lotto Ah Ah è sceso l'aereo finalmente E ovviamente Guarda quanto è l'ut che c'aveva Io non so che faccio essere qui Cosa quanto Porco tu non ci ho fatto caso Cioè è assurdo Allora aspetta fammi cancellare va Trappola Aspetta aspetta Mi muto Allora che fa fare un bergine qua Allora aspetta aspetta Allora aspetta aspetta che culo cazzo la scintana sarà morta la scintana sarà morta la giocata come una cazzo di god ragazzi una cazzo di god proprio madonna santa che god la scintana sarà morta altre band che mi fanno comodo molto comodo direi la scintana sarà morta 14 kill 12 alive 20 bombe potrei tropparle ti dimenti no quindi record non lo posso superare a me ragazzi però 20 bombe le potrei fare sono morti tipo 50 persone in non so quanti secondi o li trovo tutti e cinque ma devo trovarli tutti da prima all'ultimo c'è tutti e quattro ancora la scintana moda non riesco a riprendi bomba ragazzi a riprendi bomba un caso uno uno un caso un caso milenio Grazie a tutti Quanto laggono i server comunque ragazzi Mamma mia Cioè vedete quanto ha laggato l'ultima kill GG GG boys Che comunque sia un video da canale perché ho fatto una place della madonna in quel momento Quando ho fatto 12 kill quindi Da canale quindi Ciao youtube Grazie a tutti Grazie a tutti.